capi? stai cominciando a me dire non stai portando a me e poi ti raccomando capi? va bene, stai tranquillo hai visto che la robicella è buona davvero e andava pure no, questi sono fatti di me stai vedi a casa non sei messo il tuo mistero non sei preoccupato ti raccomando la cacciottella va bene un po' un po' un po' un po' un po' vedi che avevi portato quelle muterne che mi avevi cercato ah, si si è bello si ah, vi faccio vedere? si vabbè, faccio vedere questo è un giù questo è un giù questo è un giù questo è un giù no, no, no con quello è un po' con quello è un po' ho abbruscato non lo so non lo so ecco qua ecco qua grazie c'è un po' un po' un po' un po' un po' un po' sembra sembra barbarotta la cosa mia buongiorno buongiorno bell' bello bello bellissima bello 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 no c'è tu no voglio tu i primaloritti si e tu? si guarda guardate come subete guarda fammeli no non guardate qua un giornato la stai ah viste qua e basta? si ok fammeli non guardate ma guardate non preoccupate non guardate e qui siete qua levo? mi dame la cava sticcatevi dentro i sacchetti per no ecco in tutto no no tu hai filmato? e una guarduta? 30 euro è come si cara no 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 si vuoi muovare facciamo 25 se non è niente uuuuuh eh tira in casa vota nei 5 sì sì non ti preoccupa no beh va bo mi raccomando vai due donna maria a me lo faccio e mi ne vai non ti preoccupa va bene ma 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 è bella rapida non si ti fai stamattina con un signore che aveva scelato mi ha detto pure un buon giurto oh grazie professore se ti sembra gentile oh e chi fa bocciare chi minzonare chissà ma sa chi fa si pensava portare la casa vedo se uno voglia assistere a quello e a chi la vece la zina ma 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 mi piace tu va così di venuta la famiglia mi deve aspettare ahhh che ci ha divino da capo che io non ho pensato e sei una persona se voi siete sui tu siete in un tuo vestore ma un bene mio è tutto peggio a altro figlio ma stiamo eri con l'america ed un bene mio è tutto per il se stava lì, lo fai vado, ma io un po' quando si levava la vera, tu rimedi e torna tu, e mi chiedi, perché saremmo un cortiero, oia, 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 tu non vi resti pensieri, comunque non mi negli, io ero come sono alla messa, ma come è più di dopo, non voglio la messa, ma vai, no, sono alla messa e li ha la messa per tutti qui, la fai, se voglio bene, se mi fa capire da me, mi scambigna tutta la gemina, tutta la gemina, ma professor, ma, io dico, no, avete una certa età, se ti è stato un baro fino a me, se ti è a girare mai, a me, alla vergogna, vai a girare la vita, ce lo so, caro professor, le femmine, come? so come, io, hai presenti i casi, e poi cacciano al pini, e hai finito, tu è un talviso, 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 e poi, hai capito? capite? da che questo mi... ma questo, che me... ti hai visto che il cuore che ci ha infatti a calma, hai capito? vuoi, ci fai, ci fai, ci fai, ci fai, ci fai. ci sono... non tu fai, ci 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 fai le merome, che buona che... che buona che... che buona che... va, 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 va... è la mia tutta la verna vai professore si è chiusa professore può passare la settimana non sapeva più che si è scato è vero è vero è vero ma pensate proprio imbaglato professore due cassone va a scappare i figli su la cassone a a a bella cassone a 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